accendi accendi non ho ancora bevuto spampi devo bere prima devi andare al sole eh per vedere l'arcobaleno devi andare al sole oppure fare quel torrente qua quattro volte non fuma la tua testa non fuma non fuma anche questo è bello è un mattone lavorato questo qua è un suo fratellino più piccolo che puoi mettere sopra no che me li butti via lasciali qua lasciali qua me li butto a tutti quelli più belli guarda questo è un altro ma l'hanno portato via un sasso sì perché no no c'erano tutti i sassi più piccoli di fianco no no l'ha imporato via c'erano tutti i sassi adesso che torniamo guarda di fianco c'erano tutti i sassi rotolati messi lì a posto nel mucchietto l'ha imporato via un sasso crede che gli serviva a fare qualcosa è entrato da dove passano gli enduro è passato da lì eh guarda che legno è un fasullo eh perché sembra che ti appoggi invece al neghi girata qua in teoria se riusciamo usiamo già i buchi che c'erano eh sono dentro ce n'è due uno forse c'è dentro ancora il tassetto vediamo ancora quelli vai io no mi serviva il palo daglielo al palo che gli serve su quel tronco lì andare in là no no deve andare in là ste deve andare al di là del tronco ah è quasi è quasi va ancora guarda che sono qua guarda uno è qua e gli altri due che ha strappato fuori erano qua si vanno un po' li prendi i suoi eh no bisogna rifarli boh vedi perché è stato a strappato lì anche il perno eh il perno è dentro uno è dentro uno è rimasto dentro secondo me bisogna ripassargli i buchi ma no ma togliamo anche questo se la mettiamo in mezzo scusa che c'è contagio adesso si è allargato prima non ci stava eh no ma adesso i passi eh proviamo a posizionarla qua secondo me sì rischi di arrivar su magari sì sì anche perché lui l'ultima volta quasi cadeva dentro oh ce lo posso tu non rischia perché lì prende dentro una cosa non prendi niente lì non prendi niente ormai è largo è larghissimo chi l'ha buttato dentro eh è quello che ho detto gli serve al Paolo quello hai tagliato te di sicuro va fin dove è arrivato la biscia Marco la biscia la biscia Marco non gridare non è tanto passermi Marco dai mettela qui è più bella ma che spazio che hai no no giù scendi scendi vai indietro dobbiamo portarlo come prima figa anche a giù la bianca e ci passa va bene così devi portarlo a casa non c'è forse l'appoggio non è diretta gira la bravo eh ho capito e dopo poi la tira su la lasciamo così l'acqua la tira via la tira via ancora meno stabile sì perché lì c'è il buco e qua la è stabile rimetterla là per forza la da fastidio questa su lì se no appoggiala qua no lì non va bene eh ascolta arrivi su impennato come si chiama no con l'altro come c'abbiamo non nominare il nome di dio in vano te ti ha fatto un atto poi mettiamo sotto il sasso qua la prendiamo lì no ce la porta via il sasso non ci sta era da riuscire e quello dell'altra volta che abbiamo cercato che cazzo lo muovo è pericoloso quello lì e guarda il sasso dove l'ha infilato dentro guarda che incredibile guarda che impressionante bevi o la cannuccia mettere un tassello anche sui piedi ma guarda l'avevamo già pensato anche prima mettiamoli qualcuno in più mettiamo i tasselli di qua e mettiamo 4 ma è tanto scontati qua questo qui non lo sposto più 3 3 di quelli lì mettiamolo così se lo rimane se lo rimane la rifacciamo ma per me con i tasselli di non li trovi ma per me con i tasselli di non li trovi di questi però la volta che mi asciuga la moto devo provare sai che cosa mettila un po' più bassa un po' più bassa no così così la posso va bene abbiamo detto di tutti i colori mi ha fatto un caso per prova metti qua quel tassellino non te la tiro vedrai c'è il trapano è lì c'è il piatto c'è il piatto da mettere sotto i vulcani insieme al tassello dov'è? certo c'è 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 c'è